14 dicembre 1970. Esplode la protesta nei cantieri navali di Danzica. Gli operai polacchi lasciano i luoghi di lavoro per dirigersi nel centro della città per contestare l'aumento dei prezzi. Il regime comunista reprime la rivolta nel sangue. Alla fine delle quattro giornate di protesta si conteranno circa 80 morti. No, eeeh...